E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale, nuovo video unboxing a tema Myro Accademia, ma prima di iniziare, sigla! Eccolo qui, l'ultimo arrivo in collezione, Izuku Midoriya, ovviamente da Myro Accademia, Kotobukiya, Artfix J, questa è la versione 2, visto che possiedo già la versione 1, stanno facendo nuove versioni di questi personaggi, ragazzi, aspetto anche Todoroki e Bakugo, ma andiamo direttamente a vedere ragazzi Midoriya che mi è arrivato oggi, questa è la parte frontale della scatola ovviamente con la parte centrale trasparente che ci fa vedere il nostro protagonista, sotto il nome con ovviamente 1,8 scalpe planted figure, ovviamente la versione 2 come potete vedere, qui lo stem artfix J, questo lato della scatola ci fa vedere in primo piano il nostro protagonista, qui abbiamo la parte posteriore della scatola con la figure per intero, ovviamente vari dettagli che ci vengono indicati, ovviamente scritta nella descrizione dell'artfix J, la serie di Kotobukiya, da questa parte semplicemente un muro rotto con un'altra finestra trasparente che cerca di farci vedere la figure. Sopra è praticamente come si mostra il davanti e sotto dovremo avere le varie scritte e avvertenze, ma adesso ragazzi andiamo ad aprire la figure, questa volta come vi ho detto andremo a spacchettare direttamente la figure dal vivo, uno, due, tre, il primo, togliamo lo scatolo, ecco qui come si presenta sul nostro blister, eccolo qua, con tutti i vari effetti di dietro andiamo anche a toglierlo dal blister, Allora... Allora... Abbiamo le istruzioni attaccate che andiamo pure a rimuovere, la vediamo dopo. Qui abbiamo il nostro protagonista, togliamo subito tutta la carta, la pellicola e quel che c'è addosso. Lo piazziamo subito e ve lo faccio vedere direttamente così. Piccola panoramica del nostro Izuku Midoriya appena unboxato. Ora ovviamente ragazzi gli monto i fulmini direttamente io, non vi faccio vedere come si attaccano, sennò perdiamo una giornata praticamente. Eccolo qui il nostro Midoriya con gli effetti montati sulla figure. Ragazzi ho perso una decina di minuti, per fortuna che non vi ho fatto vedere precisamente come montano, anche se dall'istruzione è molto semplice andarli ad applicare, perché proprio ci riuscirebbe anche un bambino, detto con sincerità. Ho applicato gli effetti in 10 minuti circa, quindi non avrei potuto farveli vedere tranquillamente in video. Qui ovviamente la classica panoramica che vi faccio ragazzi alla figure, per farvela vedere completa anche con gli effetti. Ragazzi la posa che a molti non poteva piacere a me piace parecchio, la figure è abbastanza slanciata, raggiunge una discreta altezza. Ovviamente poi come sempre mi scala un ottimo, comunque si ha dimensioni abbastanza generose sempre da parte di Kotobukiya. Ora ovviamente ve la faccio vedere meglio nel dettaglio, ma prima vi faccio vedere anche l'altra testa che mi hanno dato in omaggio. Eccola. Ma anche questa neanche l'apro perché tanto non l'andrò sicuramente a montare. Adesso come detto ve la inquadro nel dettaglio. Ed ecco che come promesso ve la inquadro nel dettaglio partendo dalla base che è molto grande, anche se è sempre rifinita in maniera molto grezza come potete vedere le rocce. Si vede che rispetto alla figure utilizzano come direi io plasticotta, plastica molto grezza con qualche segno sulle rocce, ma molto grezza. Poi abbiamo la figure che è praticamente attaccata e incollata qui da una gamba. Eccola. Ovviamente Midoriya ha già il secondo costume con i guanti speciali realizzati per lui. rispetto alla prima versione che ci forniva la Kotobukiya che adesso ovviamente vi metterò a paragone. Più ovviamente ci sono gli effetti con le rocce attaccate. Andiamo guardando bene tutto nel dettaglio. Ecco come vedete non si notano particolarmente gli attacchi. Qua Kotobukiya secondo me ha fatto un buon lavoro, mi avvicino un pochettino di più. Qualche lieve sfumatura per quanto riguarda il verde, non eccessiva. che varia dal verde ovviamente chiaro al verde un po' più scuro. Anche come potete vedere nel... Il painting si mantiene comunque molto simile alla prima versione. Qualche sfumatura in più però nulla di eclatante. Quelle di Myro Academy diciamo che Kotobukiya non è stata eccellente per quanto riguarda il painting. Ovviamente anche i guanti li metto nel dettaglio realizzati in maniera molto bella. Ecco... Se non andrà anche la parte di sotto col verde. Quello... Mentre la rimanenza degli effetti come vi dicevo non si nota particolarmente all'attaccatura. Qui nel retro della figure con l'altro guanto. Il calcio volante del nostro Midoriya. Quindi i capelli hanno praticamente lo stesso colore della prima versione. Hanno modificato un pochettino il volto, vediamo se riesco a inquadrarlo meglio. Eccolo. Ma comunque non è sempre fedelissimo rispetto alla controparte anime. Però sicuramente migliorato rispetto alla prima versione. Che ovviamente adesso vi metterò insieme a questa per farvi vedere anche la differenza di dimensioni. Ripeto ragazzi, a me la figure piace tantissimo. Molto più rispetto aux. Base realizzata meglio. Con più sfumatura o comunque si ha più segni sulle rocce. Poi gli effetti sono praticamente incollati in maniera perfetta. La posa è parecchio dinamica. E poi ripeto, unica pecca se veramente devo essere sincero è un pochettino il viso. Che non è fatto male ma sicuramente non è fedelissimo. Adesso vi metto a paragone la prima versione con la seconda. Eccole qui messe accanto le due versioni. Ovviamente ragazzi parto dalla base che come potete vedere non c'è praticamente paragone. Non è nettamente migliorato. Per quanto riguarda il colore di midoria della tuta è pressoché uguale, ripeto, qualche sfumatura in più sul secondo modello. Ovviamente anche sulla posa non c'è praticamente paragone. Cambia totalmente il vestito come potete vedere gli stivali e i guanti. Stesso painting anche sui capelli. Faccio vedere meglio magari anche la prima versione. Se il telefono è messo a fuoco. Il colore è la seconda. Ripeto, secondo me è un gradino superiore. Poi il viso che come vi dicevo preferisco nettamente quello nuovo. Questo l'hanno sicuramente migliorato anche se ripeto non è fedelissimo. E qui ovviamente poi ragazzi la differenza di dimensione. Ma ripeto, midoria è praticamente identico come dimensioni. Cambia semplicemente che la figure è slanciata verso l'alto con la base che la alza almeno penso sui 30 cm circa. Piccola breve panoramica per entrambe le figure. Adesso ve lo metto anche a paragone con All Might. Questo midoria che è praticamente quella più grossa di Mario Accademia. E poi chiudiamo. Ecco qui il paragone con All Might della stessa serie ovviamente. Figure prettamente in scala ma qui magari midoria raggiunge leggermente la stessa altezza di All Might qualche centimetro più basso. Sicuro non sarà la miglior serie della Kotobukiya ragazzi ma secondo me con queste seconde versioni forse un passo avanti potrebbero farlo. Questa è la prima ovviamente che esce midoria. Aspettiamo di vedere Todoroki e Baku che poi se faranno anche All Might o Ox o Endeavor e vediamo come completano la serie. Adesso ragazzi ultima breve panoramica che vi andrò a fare di midoria e chiudiamo. Ed eccoci come al solito ultima piccola panoramica per chiudere il video ragazzi vi invito. Ah prima di chiudere ho misurato esattamente l'altezza ragazzi ed è 27 centimetri. 27 centimetri precisi con il fulmine più alto che vedete là dietro. Adesso come vi dicevo ultima panoramica della nostra figure di Zuku Midoriya Kotobukiya serie Artfix J versione 2. Figure per me ragazzi consigliata questa volta. Se non consigliavo prettamente la prima questa sicuramente la consiglio. Costa costa però è fatta davvero bene. Come sempre ragazzi vi ringrazio per aver visto il video. Vi invito sempre iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sintonizzati sui prossimi arrivi che spero siano in tempi brevi come si suol dire. E nulla da Midoriya è tutto ragazzi in cadmio mascalato al prossimo video.